I carabinieri del reparto operativo di Salerno hanno tratto in arresto in flagranza di reato tre rumeni pregiudicati e responsabili di furto di cavi elettrici in rame. Si tratta di Gabriel Borca Ionut, 24enne, Florin Datu, 27enne, Cosmin Santadrian, 23enne. I tre già da tempo attenzionati dai carabinieri sono stati fermati nel comune di Agropoli a bordo di un'autovettura all'interno della quale c'erano 350 kg di cavi in rame, appena rubati da un'azienda del posto. La re furtiva, che posta sul mercato nero avrebbe fruttato circa 1.500 euro, è stata restituita al legittimo proprietario. I tre rumeni, dopo le formalità di rito, sono stati associati presso il carcere di Vallo della Lucania.